Il passaggio dal metro dinamico a quello statico come misura di distanziamento tra gli alunni ha ampliato il margine di manovra nell'organizzazione delle aule. Ma sono ancora tanti i nodi da chiarire e i lavori da portare a termine per l'avvio del prossimo anno scolastico. Dalle regole per l'aula refettorio a quelle per i servizi nella fascia d'età 0-6, dall'acquisto dei nuovi banchi al trasloco degli arredi superflui. In queste settimane il dialogo con i dirigenti dei sei istituti comprensivi della città di Udine è stato continuo e costante, racconta l'assessore comunale all'istruzione Asia Battaglia. Domani è previsto un nuovo incontro tra tutti gli uffici comunali interessati per fare il punto sugli spazi a disposizione delle 47 scuole comunali, tra materne, elementari e medie. Non dovremmo avere grossi problemi di spazi, aggiunge Battaglia. Le criticità riguardano la Toppo Pascoli, alcune classi saranno spostate alla Nievo, e la Alberti di Via Baldasseria, dove stiamo studiando una soluzione. Quasi tutti gli istituti hanno partecipato al bando per l'acquisto di nuovi banchi 50x70, bocciati i banchi innovativi. Speriamo arrivino in tempo, commenta l'assessore. Nel frattempo il Comune ha comprato una serie di lampade igienizzanti, totale 520 mila euro, da collocare in mense, spogliatoi, palestre e ascensori. E sta valutando anche l'acquisto di nuovi banchi trapezoidali. Ma c'è anche un altro nodo da risolvere, quello dello spostamento di tutti gli arredi superflui dai plessi scolastici per aumentare la superficie a disposizione. Probabilmente sarà indetta una gara per affidare tutti i traslochi. Obiettivo farsi trovare pronti il 16 settembre, come previsto dal calendario scolastico regionale, anche se già qualche giorno dopo la scuola si fermerà di nuovo per lasciare spazio ai seggi elettorali. Troppo complicato trovare sedi alternative per i seggi, come chiesto in una circolare dal Ministero dell'Interno. E a farne le spese sarà ancora una volta la scuola.